Bella a tutti ragazzi, benvenuti qui su Tnob Nation, io sono Tnob, oggi c'è un gioco free to play, un po' sporcaccione Siamo a Crash Crash, lo trovate su Steam, andiamo a vedere Allora, era un giorno di sole, vi tradurrò un po' quello che so Mentre stavi guidando la tua bicicletta, praticamente davanti a una fontana, penso si, adesso non mi ricordo Passava un uccello, che uccello, ti sei distratto e... Cazzo, che è successo? Ah, stiamo andando addosso a questa bellissima signorina Praticamente dice che abbiamo spanato questa signorina e se ne sta andando in ambulanza Ehi, se ci crederai o no, oggi è il tuo giorno fortunato, il mio nome è Cupidi E gli incontri sono la mia specialità Questa ragazza si chiama Cassie, andrò ad aiutarti per farti avere un appuntamento con lei Attualmente hai rotto il ghiaccio e anche, possibilmente, le sue costole Adesso la prossima parte non sarà molto semplice Per prima cosa, clicca la ragazza Abbiamo ragazze Ah, era assoluto un lavoro, perché dovevi sapere che le ragazze, se non c'avete i sordi, non arrivano Ok, sì, va bene, va bene Ah, andiamo a lavorare per questo fast food, noi gireremo gli hamburger, vabbè Possiamo guadagnare un po' di soldini Ma insomma, magari ogni... quant'è? Ogni 5 secondi 10 dollari Ma magari, oh Ah, sì, clicchiamo Ok, ora dobbiamo aspettare... ah, abbiamo pure 100 dollari Adesso dobbiamo anche gli hobby Ballare, vai Balliamo Ehi, ehi Stai attento, tieni le tue dita dove le posso vedere Eccola, che stanno qui, non ti preoccupare Allora, gli dobbiamo comprare Una conchiglia, chissà che cazzo ci farà con la conchiglia, però vabbè Uh, altri... Hobbes Buff e ticcivi Ah, non c'ho... vaffanculo, non c'ho tempo Ok, dobbiamo togliere questo Lavoro, vabbè, sempre quello Allora, vediamo quanto costa... Mortacci, 400 dollari in a conchiglia Ma che è? Fatta de... se sa che Vabbè, tanto clicchiamo fino a 688 Ragazzi, qui abbiamo la barra, qui Entraremo un free zone, poi bacio Poi sicuramente si innamorerà di noi Ma come fai a non innamorarti del tono, eh? Ah, ci abbiamo messo di me per comprare La conchiglia, la tonzella, vai Ah, che bello Un regalo di compleanno e ritardo di 4 mesi Ma vaffanculo Ho già detto che ho comprato la conchiglia Pensiamo a capire chi comanda qui, eh Lei, perché le donne comandano sempre Lei, perché le donne comandano sempre Oh No, e io ti tocco Bam Oh Vabbè Nel mentre aspettiamo che possiamo fare Niente, dobbiamo aspettare Che palle aspettare che ha Madò Oh Ho sblocato una nuova ragazza Ah, questa è la mia preferita, ragazzi Andiamo Ah, un giorno Mentre stavi vicino al locale Di giochi architetti Vabbè, la sala giochi È iniziata a giocare ad un gioco retro I miei preferiti No, è vero Boh, non mi dicono niente di che Non capendo veramente come lavora questo gioco È iniziata a premere tutti i bottoni a caso E Vediamo che succede Oh Abbiamo fatto lag score, ragazzi Ah, ragazza No, non può essere È battuto il mio punteggio migliore È distrutto questa ragazza che ha lavorato molto e si è dedicata Meglio che la farai sentire meglio Vediamo Tiè, guardate Non è bellissima, ragazzi There's this cream, it's getting friends And Mi sa che è un po' finita Oh sì, tutto il gelato Mmm Oh sì, tutto il gelato Mmm Dai Suave livello 3 Non siamo a suave livello 3 Che palle Addio lavoro Continuiamo a ballare Mmm 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 Se la voglio conquistare, ragazzi Tanto quell'altro a che punto sta Mmm Questa la vedo tutta bella Schizziosa Oddio C'ho la patata solo io Tutta d'oro Dai Piano piano stiamo andando avanti Allora che vuole che sta Lavoro in un ristorante Una rosa Che c'ho il conto in banca bello alto E 1800 Buoni Mmm No no, io continuo a pensare Eh, vabbè Questa continua a dire parole Senza senso Ah Mmm Ah, io penso che tu sei a posto Dovremmo lavorarci un po' su Vabbè Eh, potere del gelato Disattivati Oh No, poverina Mmm Oh, abbiamo un nuovo hobby Motivation Vai Non ciò perde questo Iniziamo a diventare dei motivatori E clicchiamo Mazzalo Questa vuole che ci abbiamo 1337 dollari Mazzalo Si tratta bene la pischelletta qui Ok ragazzi Noi ci possiamo salutare qui Questa è la Crash Crash Lasciate un bel mi piace Se avete piaciuto il video E condividetelo Awww